musica 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 allora raga questo è un nuovo vlog insieme a Michele quest'oggi riprendiamo i vlog era un po' che ero fermo questo weekend faremo un weekend un pochino diverso dal solito in modo un po' diverso oggi scendiamo da super sportive motard macchine varie e andiamo nel mondo delle custom musica musica allora siamo arrivati a Poledo e c'è con noi anche una persona particolare strani incontri musica 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 piccola dappa a pregi musica ma ci fermiamo a mangiare ma mangiamo qualche cosa no? musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il chopper è con me e quest'altro farà compagnia il motard. Giornata molto 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 disagiata. Compagnia assurda. Ci siamo spaccati dalle risate. Tra Glock, Zio Command, Freeway. Oggi siamo spaccati dalle risate. E anche la schiena. Perché come potete vedere non ci sono sospensioni su questa moto. Quindi sono anche spaccato la schiena. Ora andiamo a dormire. Poi domani mattina lavoriamo un pochino su questa. Così la prepariamo tutta quanta e andiamo tutta lucida. Perché dei due domani si va a moto raduno. E quindi va tirata tutta bella e lucido. Giorno 2. Il chopper l'abbiamo spostato. E ora passiamo a fargli un po' di coccoline. È un pochino malconcio. Quindi adesso vi faccio vedere. Proveremo a recuperare le forcelle tutte macchiate. Proveremo a recuperare quanto più recuperabile possibile. Una bella lucidatina perché male non gli fa. Vediamo cosa esce fuori. Abbiamo finito a preparare la moto. Abbiamo messo il sole. Nel frattempo ho fatto la prelivo. E tra un po' raggiungiamo Freeway. E partiamo per il moto raduno. Siamo appena incontrati qua. A distributare la fiammina. Io sono già pronto il suo vestito. Stanno mettendo i caschi. E partiamo. Reazione frattempo. Allora siamo appena arrivati a questo moto raduno. Come potete vedere già qualche moto dietro di me. Non ho fatto clip sul viaggio di mentre veniamo qua. Semplicemente perché mi sono voluto godere il viaggio, il paesaggio e quant'altro. Ora vi lascio a un teleclip di questo evento. Cosa partina. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi levo questi occhiari orribili. Abbiamo un attimino fatto da un po' il benzinaio. Gli altri stanno di là. E' finito il motore. Adesso andiamo a farci un giro sul lungomare Civitanova. Come ho già detto prima, oggi mi godo il viaggio. Quindi vi vloggo solo quando sto fermo. Vediamo se faccio qualche clip sul lungomare, ma non ne sono certo. Siamo appena arrivati a Civitanova. Abbiamo parcheggiato i bandi in grande stile. Ho fatto un po' di pulgatorio entro lungomare Civitanova. Ma se è già da finita un po'. Ma se torno a casa. In giro sul lungomare, tra iadi sulla moto. Poi torniamo a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.